Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda per lavori tra Arezzo e Valdarno e rallentamenti per una perdita di carico tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud. Spostandoci sulla Fippilì in direzione Mare per lavori rallentamenti tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina, tra Empuli-Ovest e San Miniato e tra Pisa Nord-Est e Pisa Centro. Per una frana è temporaneamente chiusa la statale 12 della Betone del Brennero tra i km 44 e 300 e 46 e 700 in località Borgo-Amozzano, in provincia di Lucca. Si ricorda che a Firenze per l'emergenza Covid è sospeso l'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade. Ed è tutto, buon viaggio!